Chi vota Fassina, lei ha tenuto a ribadirlo durante questa campagna elettorale, non vota Giacchietti, è un programma, un candidato alternativo? È un candidato che mette al centro le persone, che mette al centro il lavoro, che mette al centro la giustizia sociale, la tutela dell'ambiente, il trasporto pubblico, il rilancio della scuola pubblica e quindi un profilo alternativo a chi vuole tornare al modello Roma che ha aggravato i problemi di questa città.